Un odore acre e nauseabondo, quello che ha provocato la reazione dei residenti delle Marane, frazione del comune di Sulmona. Gli abitanti, che ora sono rappresentati da un comitato, sono scesi in strada in segno di protesta, perché la situazione sarebbe peggiorata nei giorni successivi al ferragosto. A causare il disagio sarebbe il vicino impianto per il trattamento dei rifiuti del Coggesa, la società che gestisce l'immondizia di circa 65 comuni in un territorio compreso tra il Monte Morrone, La Piana di Navelli, Castelli Sangro e Pesco Costanzo, accogliendone in media 20.000 tonnellate all'anno. Nel 2018 sono stati inviati presso lo stabilimento di Sulmona anche 9.000 tonnellate provenienti dal comune di Roma. Negli ultimi tre anni la situazione è diventata insostenibile. La puzza inizia circa alle 21 di sera e termina la mattina intorno alle 8. Ma la puzza è talmente acre e nauseabonda che sentiamo praticamente che si seccano le narici, la gola e la bocca. Quindi ieri sera, proprio esasperati, ci siamo riuniti qui al bivio con il Coggesa e abbiamo chiamato i carabinieri proprio per far costatare anche a loro quello che si sentiva. L'amministratore unico si è pubblicamente scusato con i cittadini spiegando che il fenomeno si sarebbe acutizzato a causa dell'aumento dei tempi di stoccaggio nell'impianto di Noce Mattei alle Marane. Infatti a causa dell'indisponibilità temporanea del centro di massa d'albe i rifiuti organici sono rimasti per più tempo nella sede di Sulmona. Abbiamo sentito i cittadini che raccontano che sono spaventati perché questi odori sono forti, nauseabondi e comunque hanno paura per la loro salute. Io mi sento di dire immediatamente che trattasi della risorsa perché non sono rifiuti ma sono risorse che loro hanno consumato a casa. L'ipotesi che non trattasi di rifiuti urbani è assolutamente infondata e non ne vale la pena neanche di parlarne. E come mai questi giorni l'odore è diventato più intenso? Voi sapete meglio di me che nel periodo di Ferragosto l'Italia bene o male un po' si ferma. Noi abbiamo avuto problemi con l'impianto di compostaggio dei quali Coggesa non dispone direttamente. È l'unico impianto che ci manca e sul quale stiamo provvedendo alla relativa costruzione. Quello che è accaduto è che l'impianto di compostaggio ha giustamente previsto delle manutenzioni che hanno aggravato il deposito dell'organico presso Noce Mattei. Abbiamo messo più di qualche giorno a smaltirlo. La natura ha fatto il proprio corso nel senso che l'organico poi come accade già dentro case fermenta. Quella fermentazione insieme al vento che Noce Mattei è famosa per il vento di pomeriggio ha portato un odore diverso da quello solito. Ad ogni modo, secondo i residenti dell'area, il disagio va avanti da tempo e non è la prima volta che il fenomeno dei cattivi odori si acutizza in questo modo.